A partire dal 1773 i rapporti tra l'Inghilterra e le sue colonie americane si fanno sempre più tesi. Le colonie infatti reclamano maggiori diritti politici ed economici che il regno britannico si rifiuta di concedere. Si scatena la cosiddetta rivoluzione americana, il conflitto che sancirà la nascita degli Stati Uniti. L'atto ufficiale è rappresentato dalla dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776. La neonata nazione americana si dota presto di una costituzione federale, presa a modello dai rivoluzionari europei. Essa riconosce ampia autonomia ai singoli stati e si basa sull'eguaglianza dei diritti dei cittadini, sulla libertà politica e religiosa, sulla separazione tra Stato e Chiesa e sull'autogoverno. Nella prima metà dell'Ottocento la frontiera si sposta gradualmente verso il Pacifico. L'allargamento dei confini si attua con l'acquisizione di alcuni stati dalle potenze europee, come la Florida, ceduta dagli spagnoli, o a seguito di nuove guerre, come nel caso della California, ottenuta combattendo contro il Messico. La conquista di nuove aree avviene quasi sempre a danno degli indiani d'America, che da secoli abitavano quelle regioni e che nel corso dell'Ottocento verranno decimati. La rapida espansione va di pari passo con lo sviluppo economico del paese, facilitato da una politica decisamente isolazionista. Gli Stati Uniti cercano infatti di garantirsi le condizioni ideali per la crescita economica, tenendosi lontani dai conflitti europei e impedendo alle varie potenze l'intromissione negli affari interni. Ma l'isolamento internazionale non può eliminare i contrasti all'interno del paese, così profondi da portare alla sanguinosa guerra civile che sarà combattuta a poco meno di un secolo dall'indipendenza. La parabola di Abraham Lincoln in qualche modo è la parabola degli Stati Uniti. Lincoln riassume in sé il mito fondante della nazione, la self-reliance, la capacità di fare affidamento su se stessi, autogestirsi, autogovernarsi e crescere e svilupparsi e cambiare nel corso del tempo. Lincoln veniva da una famiglia di agricoltori, di piccoli proprietari che provenivano dal sud, si erano spostati, suo padre Thomas era andato in Kentucky, dove aveva cominciato a coltivare la terra e a crescere economicamente anche se in modo molto relativo. E questo era un po' il risentimento di Abraham da ragazzo, il fatto che il padre fosse cresciuto, avesse migliorato un pochino le proprie condizioni, ma non avesse raggiunto poi un successo. Infatti Lincoln comincerà a lasciare giovanissimo la casa dei genitori in Illinois, andrà a sud a cercare fortuna, ma anche a cercare se stesso fondamentalmente. Comincerà a cambiare stile di vita, si trasferisce poi a Springfield, che è uno dei grandi centri dell'Illinois allora, sposerà una donna che viene dalla borghesia e comincia a studiare diritto, diventa un avvocato, ma la sua grande attrazione è la politica indiscutibilmente. Già negli anni 30 comincia a candidarsi al Parlamento, al legislativo dello Stato dell'Illinois, poi riesce a vincere per tre volte consecutive un seggio nel 1936, 1938 e 1940 e praticamente compie quel sogno americano, quell'ideale dell'uomo che riesce a elevarsi dalla sua condizione di contadino a contatto con la natura, che però è fondamentale e formativa dell'identità americana per arrivare a occupare un seggio nella legislatura dello Stato. Ovviamente Lincoln farà molto di più di questo, perché negli anni 40 scende di nuovo in politica, è un Whig, arriverà nel 1846 anche al Congresso. Nel 1948 lascerà il seggio del Congresso, in un momento in cui la storia internazionale sta trasformando profondamente, sta prendendo il sopravvento sulla volontà dell'elite al potere, sulle guide moderate, se non addirittura autoritarie in Europa, nei diversi paesi che cercano libertà e indipendenza e che guardano in qualche misura anche agli Stati Uniti non come necessariamente un modello, ma come è un punto di riferimento? Parliamo ovviamente del 1848, delle grandi rivoluzioni, in che misura, per esempio in Italia si guardava agli Stati Uniti e viceversa, gli Stati Uniti guardavano all'Italia in quel processo di costruzione dello Stato-Nazione, di indipendenza, di affermazione dei principi della libertà. Molti americani viaggiano in Italia in quegli anni, partecipano addirittura, ci sono esempi di combattenti, per non parlare del forse più luminoso esempio di partecipazione di una liberal repubblicana radicale americana, Margaret Fuller alla Repubblica Romana nel 1849, per non parlare dei viaggi di Garibaldi negli Stati Uniti e della sua popolarità negli Stati Uniti. Una partecipazione sicuramente a un movimento di idee prima di tutto e poi anche di popolo che sta trasformando l'organizzazione stessa degli Stati in azione, anzi li sta completando. Gli Stati Uniti in questo senso nella loro costruzione e ricostruzione della nazione trovano degli interlocutori in Europa, di certo in Francia, in Italia, in Germania e in buona parte anche nel Regno Unito. La Costituzione americana del 1787 prevede una federazione di Stati in cui ogni singolo Stato possiede un'ampia autonomia negli affari interni. A livello centrale invece il potere esecutivo è detenuto dal Presidente degli Stati Uniti e dal governo da lui nominato, mentre il potere legislativo è prerogativa del Congresso, un organo politico composto dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato. I membri della Camera sono eletti in proporzione alla popolazione dei singoli Stati, invece i membri del Senato sono due per ogni Stato e in origine vengono designati dai vari parlamenti nazionali. L'organizzazione del Senato è alla base della stabilità politica perché impedisce agli Stati più grandi di dominare sul Congresso e imporre così la propria volontà. Questa architettura istituzionale rappresenta il punto di equilibrio tra i vari orientamenti politici dei padri fondatori, divisi tra coloro che vogliono difendere le prerogative degli Stati e quelli che cercano di dar vita a un organismo unitario forte e compatto. Per assicurare il bilanciamento tra potere legislativo ed esecutivo e fare in modo che nessuno dei due prevarichi sull'altro, il Senato ha anche un'autorità fondamentale. Esso può dare luogo al cosiddetto impeachment, ovvero la destituzione dei funzionari pubblici a seguito di accuse presentate dalla Camera. Una procedura che può riguardare lo stesso Presidente degli Stati Uniti. Con il passare dei decenni il funzionamento del sistema politico statunitense matura anche grazie alla formazione di schieramenti sempre più omogenei e di veri e propri partiti e nel corso dell'Ottocento si perfeziona il tipico modello bipartitico che perdura ancora oggi. Il momento di svolta della politica americana di metà Ottocento può essere collocato intorno al periodo della guerra contro il Messico, tra il 1846 e il 1848, perché quella guerra riapre una ferita che in realtà non è stata mai rimarginata della nazione, cioè quella della schiavitù. Nel nord degli Stati Uniti si è sviluppato nel corso dei decenni dalla fondazione un sistema di lavoro salariato fondamentalmente nei porti e nelle grandi città del nord-est del paese e una modernizzazione progressiva dell'economia. Il lavoro libero, dicono molti intellettuali del nord, è la base portante dell'economia degli Stati Uniti. Il sud invece fonda parte della sua economia, non proprio tutta, sulla schiavitù, sul lavoro degli afroamericani schiavi. Bisogna tener conto che nel 1831 intanto si era formato un nuovo movimento per l'abolizione della schiavitù, un movimento abolizionista che prendeva le sue mosse anche da principi religiosi, dall'ingiustizia e dall'idea che si stessero violando i principi stessi della fondazione della nazione. Nella dichiarazione di indipendenza Jefferson, che ne era per la buona parte l'estensore, aveva fissato un principio che tutti gli uomini sono creati uguali e dotati dal loro creatore, recita la dichiarazione di uguali diritti. Questi diritti però non si estendevano evidentemente, soprattutto nel sud, agli schiavi che non erano considerati alla stregua di altri esseri umani. E qui infatti Lincoln al congresso degli Stati Uniti fondò una sua battaglia, chiedendo ripetutamente agli avversari del sud se si potevano considerare gli schiavi alla pari di animali, quindi non esseri umani. Se questo era il principio allora la schiavitù aveva una qualche ragione di esistere, ma era ovvio che si trattava di esseri umani e che quindi la schiavitù era iniqua. Lincoln non fu mai un abolizionista, non vedeva di buon occhio la schiavitù, la considerava un male, ma più che altro perché aveva aderito a quel movimento del free labor e appunto del lavoro libero che si era andato formando negli anni 50 negli Stati Uniti. Quindi il problema della schiavitù è un problema centrale perché appunto con la guerra contro il Messico si aggiungono degli stati e dei territori destinati a diventare territori schiavisti e stati schiavisti, parliamo dell'Arizona, del New Mexico e parte della California e che sollevano un problema, cioè la parità tra stati del sud e stati del nord nel congresso, sebbene dal punto di vista numerico la popolazione del nord sia in modo schiacciante superiore a quella del sud, dove tra l'altro buona parte della popolazione è schiava. Quindi c'è un problema fondante che ovviamente mette in opposizione due sistemi economici, due sistemi di valori che sono andati separandosi sempre di più, due modi di concepire lo Stato-Nazione. Il problema della schiavitù indiscutibilmente era centrale. certo non entrò direttamente nella questione della spaccatura poi che si creò nel 1860 perché nessuna delle due sezioni in realtà voleva riconoscere che quello era uno dei problemi, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista etico. Gli Stati Uniti d'America nascono su basi egualitarie, ma fin dalle origini la presenza degli schiavi rappresenta la principale contraddizione del paese sul piano dei diritti. La prima formulazione della Costituzione americana non esclude infatti la schiavitù e bisognerà aspettare il 1808 perché venga almeno vietata la tratta degli schiavi dall'Africa. L'economia degli Stati del Sud dipende però in misura rilevante dal lavoro servile e nel corso dell'Ottocento il numero degli schiavi cresce continuamente fino a raggiungere la cifra di circa 6 milioni nel 1860. Nel nord industriale comincia intanto ad aver maggior presa il movimento abolizionista che porta alla progressiva eliminazione della schiavitù in varie aree del paese. Un contributo fondamentale a questo movimento è fornito dalla pubblicazione del 1852 del romanzo La capanna dello zio Tom. Il racconto delle penose condizioni degli schiavi e delle brutalità a cui sono sottoposti ha un grande impatto sull'immaginario popolare, non solo americano ma anche europeo. Lo spostamento della frontiera verso il Pacifico aggrava le tensioni tra le opposte fazioni. Mentre i grandi proprietari del sud chiedono l'estensione a ovest delle piantagioni di cotone e dello schiavismo, il nord chiede di diffondere la coltivazione dei cereali offrendo ai piccoli coltivatori terre a buon mercato. La battaglia è ormai diventata politica e gli attriti tra abolizionisti e schiavisti si trasformano sempre più spesso in violenti conflitti. Nel 1853 si scatena perfino una guerra civile all'interno del Kansas, prima avvisaglia dei tremendi scontri del decennio successivo. Solo con la guerra di secessione si giungerà alla promulgazione del XIII emendamento, che nel 1863 abolisce la schiavitù in tutto il paese. Tale atto non risolve però il problema della segregazione dei neri, che anzi caratterizza la storia americana di gran parte del Novecento, soprattutto nei territori del sud. Con la Costituzione del Partito Repubblicano nel 1856 Lincoln ritorna alla ribalta politica negli Stati Uniti e soprattutto in un interessante confronto nel 1858, che è un po' una specie di anticipazione della moderna politica spettacolo americana. Consideriamo che negli Stati Uniti dell'Ottocento in realtà la politica è qualcosa di molto vissuto dalla popolazione, dalla gente che va a assistere ai dibattiti politici un po' come si assiste a dei match di box. Si va in piazza, gli oratori si confrontano a volte anche duramente, a volte insultandosi, si mettono uno di fronte all'altro sostenendo di avere ovviamente l'interpretazione migliore di come il governo dovrebbe essere condotto, di quali sono i meriti e i demeriti della propria parte, di quali sono soprattutto i demeriti della parte avversa. E nel 1858 Lincoln si trova a confrontarsi per un steggio al Senato con l'incumbent, cioè il senatore in carica rappresentante dell'Illinois, che è un uomo di altissimo profilo politico e grandissima notorietà, Stephen Douglas, che lui ha già incontrato a più riprese nel confronto non solo politico ma anche personale, si erano per un periodo contesi la stessa donna che poi Lincoln aveva sposato, ma Douglas lo aveva ripetutamente battuto da un punto di vista politico. E così nel 1858 Douglas e Lincoln si incontrarono sette volte e ogni volta riuscirono a trascinare molte persone al loro confronto, parliamo di migliaia di partecipanti, di spettatori che tifavano letteralmente per l'una o per l'altra parte. La politica era vissuta in modo molto profondo e molto diretto anche dagli elettori, il rapporto governanti-governati su cui si fondava il patto costituzionale faceva sì che gli elettori si sentissero parte in causa del confronto politico. Lincoln finì per perdere nelle elezioni, ma da un certo punto di vista viene considerato il vincitore morale di quel confronto. Perché? Perché Douglas insistette soprattutto su un fatto, sul fatto che c'era una differenza tra governo federale e volontà degli stati, volontà del popolo e che quindi doveva darsi precedenza alla volontà di un singolo stato e che se quello stato, non che Douglas fosse necessariamente uno schiavista, ma se quello stato aveva scelto la schiavitù era giusto che il governo federale rispettasse la volontà del singolo stato. Lincoln invece insisteva sulla immoralità della schiavitù e sul fatto e sui principi della dichiarazione di indipendenza e della Costituzione. A quelli continuava a fare appello. Lincoln faceva riferimento appunto alla dichiarazione di indipendenza, chiedendosi quando è che questa nazione ritornerà davvero ai principi della dichiarazione di indipendenza, cioè a quel principio che tutti gli uomini sono creati uguali. Lincoln era stato accusato ovviamente dai suoi detrattori, dai suoi avversari di essere in realtà un amico dei neri, un sostenitore della parità dei diritti e delle condizioni tra neri e bianchi. In realtà Lincoln non era appunto un abolizionista e ripetutamente nei suoi discorsi aveva manifestato l'opinione che per lui l'importante era che anche loro potessero godere dei benefici della libertà che era il principio portante della nazione. Ecco, in questo Lincoln si rifaceva per molti versi ai principi fondanti della nazione, a una democrazia partecipativa che non fosse riservata ai pochi, ma che consentisse a tutti di esprimere la propria opinione e di contribuire al benessere del governo, un governo che non doveva invadere la privacy e l'individualità di ciascuno. E quando arrivò al potere nel 1860 Lincoln promosse questi ideali, per cui si era già battuto l'ideale dell'affermazione dell'individuo, dei diritti dell'individuo e della self-reliance, appunto di questa capacità di fare affidamento su se stessi, che tutto sommato era la sua cifra, era il suo modo di condurre i propri affari personali, ma anche la sua condotta politica. Quindi all'inizio della presidenza Lincoln si trovò a fare delle scelte che avevano ovviamente una rilevanza politica e lo fece con molta arguzia e molta competenza, scegliendo prima di tutto nella sua squadra, cioè nel gabinetto presidenziale, in un momento in cui la nazione sembrava veramente destinata a una separazione senza ritorno, scelse i suoi avversari più diretti ad affiancarlo nel governo. In particolar modo forse il suo avversario più deciso, Salmon Chase, che era un abolizionista, per affiancarlo in un governo che doveva in qualche modo a suo avviso rappresentare le tante nature degli Stati Uniti, ovviamente degli Stati Uniti del Nord. Qualcuno sostiene che Lincoln volesse la guerra, volesse mettere a tacere una volta per tutte le rivendicazioni del Sud e in realtà come diceva lui stesso, gli eventi trascinano a volte gli uomini e la storia e quindi Lincoln sicuramente non era disposto a cedere alla disunione, perché l'unione era il suo principio fondamentale, ma dall'altra non è che volesse davvero la guerra, anzi probabilmente pensava che arrivati sull'orlo della guerra gli americani si sarebbero presi conto della distruzione che questo avrebbe comportato e della gravità di un conflitto che rischiava di distruggere completamente gli Stati Uniti. Ma dove erano le radici del conflitto sezionale, come lo chiamavano gli americani, tra Nord e Sud? Come mai si era arrivati nel 1860 addirittura una guerra civile che costò tantissime vittime e dolore e problemi economici al paese? I radici erano già alla fondazione degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti avevano portato insieme nel periodo della guerra contro la Gran Bretagna e il distacco dalla madre patria, 13 colonie, 13 Stati poi erano diventati, che volevano in qualche misura mantenere la loro autonomia rispetto al governo federale e il conflitto era cominciato già allora tra quelli che venivano chiamati federalisti e antifederalisti. In realtà federalisti, al contrario di quello che noi siamo abituati a pensare, erano coloro che volevano una centralizzazione dello Stato e del governo federale rispetto alla troppa autonomia che a loro avviso gli Stati conservavano. Quindi quando si convenne che era necessaria una Costituzione, un documento che tenesse insieme questi 13 Stati e che si convocò la Convenzione di Filadelfia nel 1787, in realtà c'era un gruppo, appunto gli antifederalisti, che chiedevano una Costituzione quanto più leggera possibile, che non costringesse o vincolasse il volere dei singoli Stati al volere del governo federale. Bisognava avere un governo minimo, questo non era l'avviso ovviamente dei federalisti, soprattutto di un personaggio che è chiave insieme a George Washington nella Fondazione della Nazione, Alexander Hamilton e con lui James Madison, praticamente l'estensore di buona parte della Costituzione degli Stati Uniti, che volevano appunto creare quella che poi avrebbero chiamato l'Unione, che era un'unione di popolo ma anche un'unione di Stati, tant'è vero che noi ne abbiamo ancora oggi riscontro nella composizione del Congresso degli Stati Uniti, diviso in due Camere, una Camera dei rappresentanti su base proporzionale, quindi sul numero dei cittadini, è un Senato che invece rappresenta proprio gli Stati, due senatori per Stato a prescindere dalla grandezza dello Stato e dalla popolazione che lo compone. Quindi questa divisione tra antifederalisti e federalisti si ripercuote nella storia degli Stati Uniti fino all'Ottocento, ma era necessario un governo centrale, un governo che soprattutto guidasse la politica estera del Paese. E' interessante notare da questo punto di vista che quando uno dei principali antifederalisti vinse la presidenza, Thomas Jefferson nel 1800, anche lui si rese conto della necessità invece di ricompattare gli Stati sotto un governo federale che in qualche modo guidasse la politica nel suo complesso, la politica del Paese nel suo complesso. Ma la Costituzione portava in sé talmente tante contraddizioni e problemi insoluti, si basava fondamentalmente su un compromesso che avrebbe poi portato al conflitto sezionale tra il Nord e il Sud. Perché? Perché per esempio la schiavitù non era mai menzionata nella Costituzione degli Stati Uniti. La cosa era stata messa da parte, messa da parte con un compromesso che si ripeterà nel 1820, nel 1850, quando gli Stati Uniti decidono che la schiavitù sarebbe stata tollerata solo a sud di una certa linea di demarcazione tracciata dagli inglesi al 36esimo grado e 30 minuti dal punto di vista geografico e dividendo praticamente il Paese in due. Fin dal principio, fin dalla campagna elettorale del 1860, Lincoln sventola una bandiera principalmente, quella dell'unione. Il Paese deve rimanere unito, l'importanza per gli Stati Uniti è che non si sfaldi quello che era stato il sogno e poi la realtà costruita da quadri fondatori. Infatti Lincoln è restio a dichiarare che la guerra è una guerra contro la schiavitù. Dice addirittura in uno dei suoi discorsi che lui avrebbe prima di tutto salvato l'unione a ogni costo. Se questo avesse comportato l'abolizione della schiavitù lo avrebbe fatto. Se avesse comportato invece la preservazione della schiavitù avrebbe fatto anche questo o l'abolizione della schiavitù solo in alcuni casi. In questo senso molti storici assimilano Lincoln a uno dei fondatori. In qualche modo è lui che riesce a realizzare infine quella unione più perfetta che avevano auspicato i costituenti nel testo stesso della Costituzione. Quello era l'obiettivo, perché ogni Stato aveva le sue caratteristiche, ogni Stato aveva anche in molti casi religioni, fedi diverse, quelle di maggioranza a seconda della prevalenza di un gruppo religioso di un altro all'interno di una certa comunità. Quindi in questo senso Lincoln è riconosciuto come uno dei fondatori della nazione. A distanza di circa 80 anni compie definitivamente il sogno che era stato dei fondatori, riunendo nel federalismo americano quell'idea tutto sommato originale che era stata prodotta alla fine del Settecento un'unione più perfetta. In questo senso noi vediamo una trasformazione che è in atto anche a livello internazionale, perché siamo nel periodo dei grandi sollevamenti di popolo in Europa e gli Stati Uniti ricevono, recepiscono queste trasformazioni e sebbene in forma più moderata, però le portano a compimento fino agli anni 50 dell'Ottocento. Poi la spaccatura che si è creata all'interno del paese porterà invece nel 1860 e proprio a causa dell'elezione di Lincoln alla separazione tra Stati del Sud e Stati del Nord. Cosa era successo? Che Lincoln aveva abbattuto un partito democratico spaccato al suo interno, era riuscito a vincere la presidenza con solo il 40% del voto popolare, ma abbastanza grandi elettori da poter essere eletto a presidente della Federazione degli Stati Uniti. Quindi Lincoln in realtà beneficiò della spaccatura dei suoi avversari e si ritrovò a condurre in un momento drammatico la nazione degli Stati Uniti. Fu per questo motivo che il South Carolina dichiarò la secessione a pochi giorni dall'insediamento di Lincoln e poi fu seguita dagli altri Stati, 11 in tutto alla fine, che si staccarono dall'Unione e portarono gli Stati Uniti in una guerra terribile, drammatica, la guerra che costò nella storia degli Stati Uniti più morti, più vittime in assoluto e più feriti. Circa 3 milioni di uomini vennero impegnati in quel conflitto, oltre 600 mila perirono per malattie, ma soprattutto per i lunghi e estenuanti combattimenti. La guerra segnò la nazione americana, segnò però un passaggio importantissimo degli Stati Uniti verso una nuova modernità, verso una crescita esponenziale del prodotto interno lordo, verso uno spostamento della ricchezza nazionale dalle campagne all'industria e alle città e consentì agli Stati Uniti nel giro di un quarto di secolo di competere in modo serio a livello internazionale e sui mercati internazionali. Fin dalla nascita degli Stati Uniti il nord industriale e commerciale, il sud agricolo e schiavista hanno interessi divergenti, che entrano ancora più in contrasto con l'espansione verso ovest. L'elezione di Abramo Lincoln alla presidenza fa esplodere un conflitto a lungo arginato. La sua elezione viene interpretata dagli Stati del sud come l'inizio di un processo irreversibile, che avrebbe portato alla definitiva affermazione degli interessi economici del nord. Così, tra la fine del 1860 e l'inizio del 61, dieci stati del sud decidono la secessione e danno vita a una confederazione indipendente, che ha come capitale Richmond, in Virginia. Il rifiuto degli altri stati di accettarne l'indipendenza fa scoppiare la guerra civile americana. Il nord può confidare su due fattori che alla fine risulteranno determinanti. Esso rappresenta la maggior parte della popolazione dell'Unione e vanta una schiacciante superiorità economica. Nonostante ciò, le prime fasi della guerra sono tutte a favore dell'esercito sudista guidato dal generale Robert Lee. Ma tale situazione non può reggere sul lungo periodo, anche perché lo sforzo bellico degli stati confederati dipende dalle importazioni, che vengono ostacolate dal blocco marittimo operato dalla flotta nordista, decisamente superiore a quella avversaria. Nel 1863 iniziano le vittorie nordiste e l'avanzata dell'esercito comandato da Ulysses Grant sembra a quel punto inarrestabile. Dopo aver perso il controllo della maggior parte degli stati, il 9 aprile 1865 i confederati si arrendono. La guerra civile non risolve però le grandi contraddizioni del paese. Pochi giorni dopo la fine del conflitto il presidente Lincoln viene assassinato da un fanatico sudista e nel giro di pochi anni il sud ripristina il regime di segregazione razziale destinato a durare ancora per molto tempo. La guerra civile è indiscutibilmente un evento di portata internazionale e dicono gli storici transnazionale perché non interessò soltanto gli Stati Uniti ma molto anche l'Europa. Gli europei inviarono osservatori per studiare quella che viene da molti considerata la prima guerra moderna, in realtà una guerra violentissima, sanguinosissima, una guerra anche di trincea e di posizionamento. Tutte e due le parti, nord e sud, dovettero ovviamente lavorare molto alle loro relazioni diplomatiche per farsi amici e sostenitori i paesi d'Europa e soprattutto due grandi potenze, la Gran Bretagna e la Francia. Tant'è vero che gli stati confederati del sud mandarono in Europa, in Francia, in Gran Bretagna dei diplomatici che fossero in grado di convincere le due potenze a schierarsi dalla parte degli stati confederati, a sostenerli perché in fondo la loro sorte era molto legata al sostegno internazionale. Tra l'altro, come aveva detto un leader del sud già anni prima, il sud faceva affidamento su quello che veniva chiamato il re cotone, perché il cotone era diventata una materia prima fondamentale che dava lavoro a milioni di operai in Europa e quindi molti facevano affidamento proprio su questa capacità di influenzare le scelte delle due grandi potenze su base economica. C'era una nuova nazione che si era da poco creata e che diede subito il suo sostegno all'Unione, senza esitazione, mentre invece Francia e Gran Bretagna continuavano a guardare con una certa simpatia agli stati confederati del sud. L'Italia, il Regno d'Italia si era creata tra l'altro anche con un buon sostegno e simpatia da parte americana e immediatamente riconobbe il diritto ovviamente all'unificazione, non poteva entrare in contraddizione con quanto era avvenuto nel 1861 nel paese e quindi lo scambio di diplomatici aveva favorito anche questa reciproca simpatia che aveva consentito all'Unione di trovare un alleato e un simpatizzante importante ma non abbastanza ovviamente in Europa. Quindi la guerra civile si giocò come poi d'altronde quello che seguì alla guerra civile anche su un piano transallantico di nuovo e internazionale e in un momento in cui appunto l'abolizione dello schiavitù o della servitù della gleba come in Russia stava diventando un elemento centrale per la modernizzazione dei paesi e infatti Lincoln nel 1862 capì che per spostare il livello del confronto della guerra e per proiettarsi a livello internazionale e trovare anche solidarietà a livello internazionale e simpatia doveva rimettere mano alla questione della schiavitù. E così fece il primo gennaio del 1863 promulgò il proclama di emancipazione degli schiavi. Ovviamente simbolicamente questo gli garantì il sostegno e la simpatia dei paesi e di molti leader. Lo stesso Garibaldi lo promosse a apostolo della libertà internazionale e Lincoln si batté finché fu in vita, venne ucciso nell'aprile del 1865 da un attore, un fanatico prosudista, proprio tra la fine del 64 e del 65 mise mano anche alla Costituzione per introdurre un emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti e menzionare finalmente la schiavitù. Il tredicesimo emendamento che abolisce la schiavitù dicendo che la schiavitù da quel momento in poi non sarebbe esistita più sul territorio degli Stati Uniti e veniva bandita, seguita poi da altri emendamenti che avrebbero garantito diritti civili alla popolazione afroamericana. Quindi Lincoln si proietta come leader a livello internazionale e ovviamente il suo assassino nel 1865 che coglie di sorpresa molti nel mondo e negli stessi Stati Uniti lo fa assurgere quasi a un ruolo di martire e apostolo della libertà. Con la fine della guerra civile gli Stati Uniti si erano quindi proiettati definitivamente a livello internazionale anche se c'era una certa resistenza e ci si erano proiettati non solo per motivi geopolitici o diplomatici ma anche e soprattutto per la loro potenza economica. La guerra aveva chiuso quel conflitto sezionale con un dominio del nord sopra il sud con l'affermazione dell'economia del capitalismo industriale e del commercio facendo di grandi città del nord il punto di riferimento del paese. Non è che questo fosse quello che Lincoln aveva auspicato anzi come dice un suo biografo probabilmente Lincoln se fosse vissuto più a lungo si sarebbe stupito delle conseguenze che la guerra civile aveva avuto. Lo sviluppo appunto del prodotto interno nord degli Stati Uniti fu progressivo e costante toccando anche a volte in alcuni anni una percentuale a due cifre quindi una crescita esponenziale. La crescita per esempio della produzione dell'acciaio che fece degli Stati Uniti il più grande produttore e anzi il produttore capace di superare il prodotto equivalente di più paesi europei messi insieme. Non solo ma anche l'agricoltura perché indiscutibilmente l'economia industriale ebbe un ruolo importantissimo ma anche la meccanizzazione dell'agricoltura e l'agricoltura intensiva del Midwest degli Stati Uniti portò all'affermazione economica del paese a livello internazionale. Appunto non che Lincoln avesse previsto necessariamente questo ma sicuramente era stato un elemento di modernizzazione del paese, aveva proiettato il paese sul futuro e questa forse era stata la sua grande visione, la sua unione più perfetta, un paese capace di autorealizzarsi e di competere alla pari con le grandi potenze internazionali. Ovviamente questo non poteva non comportare anche dei grandi conflitti all'interno degli Stati Uniti per una serie di ragioni, innanzitutto quello che gli Stati Uniti e i leader degli Stati Uniti non volevano ammettere che era il conflitto tra capitale e lavoro, tra chi deteneva il capitale in quella che va sotto il nome di Gilded Age, l'età dorata, un'età di apparenze dove una piccola elite concentrò nelle sue mani il grande capitale degli Stati Uniti e che attrasse però al tempo stesso moltissimi lavoratori da tutte le parti del mondo. Siamo appunto tra gli anni 80 e 90 dell'Ottocento quando la grande immigrazione porta milioni di nuovi lavoratori non specializzati negli Stati Uniti che portano con sé anche però una tradizione di sindacalizzazione o perlomeno di organizzazione di società di mutuo soccorso che si mettono in conflitto diretto con il grande capitale. La formazione delle grandi trade unions, dei grandi sindacati americani che tutelano gli interessi però spesso a livello etnico quindi delle lacerazioni interne che mettono in discussione quell'unità tanto faticosamente raggiunta dal Paese e questo confronto verrà superato con la crescita continua del Paese che si riflette nella creazione di una modernissima società dei consumi che già all'inizio del Novecento è in grado di essere in concorrenza con, anzi di superare in molti casi le economie delle grandi potenze europee. Il secolo si apre con tra l'altro l'affermazione di un nuovo personaggio tutto americano che in qualche modo ripercorre un po' l'ideale, sebbene lo costruisca molto a tavolino, dell'uomo venuto dal nulla, parlo di Theodore Roosevelt che proietta definitivamente il Paese nella modernità del Novecento. Il 1900 sarà un secolo in cui gli Stati Uniti prima con il loro intervento nella prima guerra mondiale e poi e ancora di più con la partecipazione alla seconda guerra mondiale allargano le proprie ali, le ali dell'aquila americana sul mondo, prima di tutto sull'Atlantico e poi ovviamente anche sul Pacifico quando includeranno insieme all'Alaska come stato dell'Unione, le Hawaii. All'inizio del Novecento gli Stati Uniti sono ormai una grande potenza o perlomeno una grande potenza quasi matura e qual è l'eredità che ha lasciato Lincoln a questo Paese? Lincoln lascia un'eredità importante soprattutto nel tentativo di riconciliazione delle anime, delle tante anime americane, sia da un punto di vista politico che spirituale. Lascia anche un'eredità laica importante perché sebbene il suo linguaggio riportasse spesso anche ideali evangelici o l'intervento della provvidenza nelle cose americane e nelle sorti del Paese, aveva lasciato però un profondo senso di razionalità, di compimento e raggiungimento dei suoi scopi al Paese, dell'industriosità e del principio dell'homo faber al lavoro, che ovviamente aveva anche delle radici protestanti ma che Lincoln si era in qualche misura guardato bene dal confondere tra principi religiosi e principi politici. Ecco l'iniziativa politica, lo spirito liberal repubblicano di Lincoln, temperato tra l'altro da influenze internazionali, la capacità di vedere oltre i confini del Paese, nonostante in fondo Lincoln non avesse viaggiato poi tanto dentro gli Stati Uniti, fece sì che gli americani si riconoscessero in un presidente che appunto tutto sommato si può mettere e viene messo alla pari con George Washington, sono i due fondatori della nazione, direi anzi il fondatore e il rifondatore in qualche misura di una nazione che a un certo punto aveva rischiato quasi di perdere la propria identità e la propria natura, il senso stesso dell'unione politica di quei tanti Stati che alla fine diventano 50, un insieme di Stati che vogliono mantenere le proprie peculiarità e la propria autonomia, ritrovando però un senso della propria esistenza nell'unione, nella collettività, nell'insieme degli intenti soprattutto, del senso del Stato-Nazione che Lincoln aveva voluto lasciare al suo Paese in eredità.